Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Questo video è per avvisarvi ragazzi che sta tornando alla serie più amata dai vecchi iscritti Lo so che tanti di voi si sono iscritti dopo Ma io portavo una mia rubrica ovvero i video sfoghi In che senso? Parlo di cose che secondo me non andavano e non funzionavano O cose che io non ero d'accordo e mi ci si incazzavo sopra Quindi tenetevi pronti Arriveranno tanti video sfoghi ma tranquilli ci saranno anche le recensioni Non è che diventerà Terror House sfoghi No, per svegliare un po' la mente anche se vedo che ci sono non tanti giovani che mi seguono Ma potete far vedere il mio video incazzato a parenti più giovani E farli riflettere Io ho detto questo, vi ringrazio E per chi si ricorda i video sfoghi commentate